Sono Aurora, ho 22 anni e sono di Bergamo e a inizio di novembre dovrei partire per la Bolivia e andrò a Santa Cruz della Sierra. Lì lavorerò con un missionario laico che è il direttore di un carcere minorile, non è un carcere proprio come lo conosciamo noi, è più una realtà comunitaria di convivenza e lavorerò anche insieme a questo gruppo di giovani madri dove vivrò anche nello stesso luogo dove vivono loro. Io ho sempre avuto un po' questa voglia di partire, di andare, scoprire e di crescere soprattutto e i miei genitori nonostante comunque un po' di preoccupazione sono molto contenti, mi appoggiano nella scelta e sanno che è un'esperienza di vita che mi farà indubbiamente crescere. Allora con me sicuramente voglio portare tanta pazienza perché so che ne avrò bisogno e è una cosa che forse mi manca un pochino quindi spero di arricchirmi un po' anche in questo e mi porto sicuramente tanta voglia di fare e di crescere.